Allora abbiamo visto che il settore per esempio la produzione del miele non è così semplice e così scontato Passiamo all'ortofrutta, anche lì un grosso apporto da parte delle donne ma in che senso? Quindi come è cambiato il settore? Come si è evoluto? E quali sono anche le vostre difficoltà oggettive adesso? Allora sicuramente come dicevo prima il nostro settore si è evoluto in bene perché comunque ci sono tante attrezzature che ci hanno aiutato e ci hanno sollevato di certi lavori che una volta erano molto ma molto più pesanti Noi in azienda abbiamo fatto degli investimenti non indifferenti insomma su queste attrezzature proprio per permettere sia di avere anche diciamo così meno mano d'opera perché in questo momento è anche difficile trovarla quindi ci siamo un po' trovati un po' su delle situazioni un po' particolari quando c'è la raccolta di alcune cose ma c'è anche il trapianto di altre cose perché a rotazione comunque vengono avanti sempre il trapianto adesso in primavera poi ci sono delle scadenze ben precise insomma per avere una continuità di questo settore Quali frutti producete? Frutta? No, in generale Allora noi principalmente abbiamo verdura Ah, ortofrutticola Ortofrutticola Poi abbiamo comunque dei peri, dei meli abbiamo dei cili, dei peschi alzeremo anche con le fragole prossimamente insomma Ce ne avete tanti allora quindi? Sì abbiamo tante quelle che ci consentono perché noi principalmente facciamo i mercati agricoli come diceva Luca che è una buona opportunità perché i margini sono più alti di guadagno Sì, sono sicuramente un po' più alti insomma e noi puntiamo sì sui mercati anche se conferiamo tantissime cose all'ingrosso al mercato ortofrutticolo e poi abbiamo tutte le varietà della verdura Iniziamo, beh adesso ci sono ancora le cose autunnali, invernali ancora Alcune sono conservate perché comunque il radicchio ce l'abbiamo in cella conservato in questo momento dove è stato raccolto ancora più o meno 20 giorni fa è stato raccolto tutto adesso viene conservato perché le temperature iniziano a salire e quindi lui chiaramente si matura Inizieremo con il trapianto già la prossima settimana di tutte le tipologie primaverile e estive insomma dalle zucchine, le insalate Adesso in questo momento io sto vendendo molto bene le robe che sarebbero il papavero abbiamo iniziato con i bruscandoli e i carletti e inizieremo le orticche che andiamo insomma queste sono tutte cose spontanee chiaramente quando c'è un passaggio di stagionalità c'è sempre un vuoto tra virgolette però ci sono tantissime altre cose che si possono benissimo mangiare Quindi lì è anche un fattore culturale cioè è un far conoscere anche alle nuove generazioni che ci sono dei prodotti del territorio che hanno una loro collocazione nell'alimentazione Sì, e comunque delle caratteristiche molto valide perché insomma anche le ortiche in questo momento cioè negli ultimi anni hanno iniziato ad essere apprezzate moltissimo insomma ecco una cosa che una volta insomma Avete difficoltà in questo momento con le varie situazioni tutto sommato è un sacco di spagnia E allora adesso Una buona notizia Adesso in questo momento ce li avremo tra un pochino quando iniziamo ad avere problemi di acqua che dovremmo comunque irrigare il terreno Noi adesso in questo momento stiamo aspettando il carciofo avrebbe bisogno di acqua che non arriva Gli asparagi invece non hanno bisogno di acqua insomma quindi insomma stiamo aspettando un pochino ho iniziato con un po' di produzione ma poca roba perché fa anche freddo quindi se lei la differenza tra lei è una donna o se fosse gestita la sua azienda da un uomo ci sarebbe? Allora diciamo che io sono un po' anche avvantaggiata su questo aspetto perché comunque ho anche dei fratelli che mi aiutano molto in azienda e quindi Però qualcosa che dà di diverso c'è rispetto ai suoi fratelli? Sì beh sicuramente diciamo che loro hanno più l'aspetto tecnico diciamo io invece ho il curo molto di più il confezionamento quello che c'è la vendita e quant'altro insomma ecco Quindi invece vi siete divisi le competenze Sì ci siamo divisi un po' i ruoli perché se no potrei mica far tutto io in azienda dico sempre Infatti assolutamente Lei Presidente c'è un apporto significativo dato dall'essere donna che applicata in agricoltura rispetto a non so che può farlo magari il fratello, marito, padre eccetera? No io adesso nel mio insediamento insomma ho insediato mio figlio Andrea Passaggio generazionale Passaggio sì E' riuscita Esatto Perché lo parlavamo anni fa che mi ricordo che era uno dei suoi obiettivi Esatto E così è una grande grande mano perché lui si occupa effettivamente di lavori più pesanti che una donna farebbe un po' fatica per dire anche nel tagliare andare le viti per dire da una mano però lui fa i lavori più pesanti dopo anche col trattore prima sì però avevo sempre e dopo anche il marito che mi dà una mano però nelle cose per dire burocratiche o cosa mi occupo io in quella fase lì per dire Che le cose più perniciose più seccanti Esatto che tanti agricoltori odiano tanti imprenditori odiano li seguerei e bisogna fare anche quella perché c'è tante infatti prima Luca diceva Ismea io ho avuto da poco tempo un mutuo da fare per acquistare dei campi o cosa sono andata avanti quasi otto mesi e dopo per acquistare dei campi sì per avere tramite Ismea e tutto c'è una fatica oltre di avere sì come dice anche l'intestazione e tutto però la difficoltà astronomica questo do e dunque ci vuole una in casa che si occupa anche di carte lavoro manuale e per fortuna insomma adesso è entrato e dunque c'è tanto lavoro anche su una vigna prima c'è da fare lavori di mano ma c'è anche di terreno dopo più adesso che non piove è un disastro cioè perché abbiamo anche lì nel freddico i freddici che dunque passano distruggono tutto questo momento per i vignetti possono essere anche qua adesso sì perché anche adesso cosa mangiano? vanno in cerca di acqua che non c'è nei fossi acqua non c'è loro vanno in cerca di acqua di fresco di mangiare ma a qualsiasi trovano e dunque vanno sotto sotto vanno dentro ai fossetti ma dai lì fanno strada cioè rompono tutto e buttano tutto giù mi è venuto in mente prima a chiederlo a parte questa cosa qui che è un problema trasversale che prescinde l'associazione della CIA donne in campo quando lei diceva dell'ismea delle difficoltà che avete eccetera dà una mano alle donne imprenditrici attraverso la ricerca di progetti europei supporti o agevolazioni per trattative per rapporti con gli istituti di credito o non è ancora strutturata questo livello? al momento io non ho visto tanto a livello di donne in campo che abbiamo avuto cioè ci sono stati anche di finanziamenti per donne in campo e tutto però a giovani imprenditrici cioè certo però non è facile entrare su ancora non c'è il sistema di entrare su di fare quei servizi lì la produzione del vitivinicolo come è andata la scorsa stagione e che prospettive ci sono? è un po' difficile adesso tra la pandemia che c'è stata e dopo adesso anche tanti tanti vendite anche in Russia e Ucraina era un buon mercato era un buon mercato adesso si è fermato lì è veramente un momento di crisi export per voi? no io non lo non lo tratto personalmente quindi voi esportate all'estero? no all'estero no quanto possiamo risentire come agricoltura del territorio per quel che vi compete la chiusura di certi mercati perché ci sono settori dell'agroalimentare che risentiranno notissimo della chiusura del mercato per esempio anche per certi beni particolari di consumo assolutamente soprattutto la parte diciamo più pregiata delle nostre produzioni però anche per quanto riguarda l'ortofrutta e se chi vuole ciliegie per esempio ciliegie vino saranno sicuramente soprattutto il vino come diceva giustamente Milena ne risentirà parecchio con la chiusura della Russia anche il nostro prosecco semplicemente il mercato russa è un mercato in espansione è un mercato sul quale diverse cantine ho puntato è chiaro che le condizioni attuali non permettono comunque di continuare a investire su quel mercato almeno per quanto riguarda in questo periodo è chiaro come dicevo prima stiamo vedendo dei limiti rispetto al nostro modello produttivo commerciale cambiano completamente i punti di riferimento sia in quel che deve entrare sia in quello che deve uscire quindi le modalità della produzione siamo di cambiamenti epocali che si stanno susseguendo a ritmo mai visto prima questo credo che ne siamo tutta pevoli speriamo che in questo la classe politica ne sia altrettanto consapevole e pur sapendo che le difficoltà di ricercare risposte acquisiti così complessi non sono di facile portata è necessario però mettersi e ragionare tutto con chi come noi non si confronta con le difficoltà di sistema che sono strutturali la burocrazia di cui parlava prima la Milena è chiaro dover aspettare mesi per avere un finanziamento c'è lo strumento ma se dopo lo strumento non è immediatamente utilizzabile per una serie di motivazioni più o meno corrette che ci possono essere è chiaro che questo tempo perso soprattutto in agricoltura rischia di essere un fattore determinante rispetto alle evoluzioni delle nostre aziende agricole e quando sei in un periodo di cambiamento così tanto radicale avere lo strumento che ti permette in maniera rapida di affrontare questo cambiamento è una cosa fondamentale insomma assolutamente non è in mente come appunto si parlava anche di donne ma anche donne giovani che approcciano l'agricoltura voi come donne in campo rappresentate anche le donne più giovani ci sono delle new entry sì ci sono sempre donne giovani che si insediano dentro noi a maggior parte insomma a maggior parte abbiamo una anche qua anche lei è giovane sì 32 anni quanto? 32 anni giovane sì effettivamente da poco imprenditrice agricola nel 2019 come ho detto prima ho subentrato nell'azienda per cui prima però ti occupavi sempre di agricoltura sì prima ero collaboratrice con mia sorella e adesso dal 2019 sono entrata io come titolare dell'azienda una bella sfida quindi sì ha fatto che poi c'è stata l'entrata l'epidemia e quindi anche lì c'è stato un momento di transito perché le fattorie didattiche sono state chiuse e poi voi vi occupate anche di fattorie didattiche con la produzione di miele è stata critica e adesso speriamo nel 2022 che sia migliore la produzione assolutamente sì che cosa hanno bisogno le donne giovani che si cimentano in agricoltura domando tutte e due magari per esperienza di tempo rispetto a magari donne che hanno più esperienza come voi da anni è un mio trame di affusate ogni giorno questi problemi insomma è facile per una donna come per un ma a qualsiasi età anche per noi per dire per i giovani dargli quel coraggio di insediarsi di essere sicuri di se stessi perché nell'agricoltura è una fabbrica all'aperto diciamo perché tanti ambiscono in momenti un po' difficili dicono ma mi metto a fare l'imprenditore agricolo l'imprenditrice agricola dire si voglia mollo tutto e mi butto in agricoltura infatti perché perché come dicevo è una fabbrica all'aperto cioè sta alla stagione sta al climatico sta al condizionamento e i problemi che ci sono adesso ci sono adesso cioè c'è tante cose che vanno in positivo ma anche in negativo e bisogna fare queste sfide i giovani non è facile il giorno d'oggi però bisogna avere il coraggio di affrontarli dottore importante cosa ne pensa? sì no beh sicuramente è una cosa da consigliare io ho fatta l'italità ho anche mio nipote che è giovane e si sta inserendo molto molto volentieri gli piace sì sì gli piace fin da sempre infatti sta facendo l'agraria insomma e lui è proprio diciamo che è il futuro erede della della cosa e sì lo consiglio perché comunque come diceva Milena sicuramente è una fabbrica all'aperto a chi ama l'aria aperta o cosa essere libero sicuramente ci sono delle difficoltà da affrontare perché sempre sono famiglie che si occupano perché il problema della manodopera esterna resta importante sì diciamo che chi parte da solo cioè chi domani si dice beh da domani inizia a fare l'imprenditore agricolo ha ulteriore difficoltà sicuramente ha ulteriore difficoltà anche semplicemente a trovare un pezzo di terreno da prendere in affitto questo è un altro è un altro problema e credo sia una delle cose abbastanza discusse dai giovani che infatti volevo passare un attimo visto che manca pochi minuti della chiusura terreni in affitto terreni che alcuni sarebbero allettati a dedicare voltaico ritorniamo al punto dell'inizio e chiudere punto tu sì stiamo diciamo che il settore sta subendo un grosso interesse mettiamolo così da parte di aziende che vedono nella possibilità di installare del fotovoltaico a terra per la produzione di energia per sottrarre terreno coltivabile alle aziende noi ci siamo ovviamente come associazioni di categoria opposte è in discussione in questo momento una legge regionale che andrà a regolamentare in maniera restrittiva la possibilità di installare fotovoltaico a terra è questo che effetto ha cioè perché parliamo di fotovoltaico quando parliamo di giovani e di prezzo perché la possibilità di utilizzare non in agricoltura per cui per la produzione di cibo ma per produzione di energia i terreni porta a un aumento degli affitti e un aumento del prezzo della terra per cui un giovane che si vuole insediare ovviamente si deve confrontare con tentativi di affitto in questo periodo da parte di società con capitali sociali da 10.000 euro che si presentano a soci con proposte dai 2.500 ai 3.000 euro a ettaro di affitto per l'installazione di fotovoltaico a terra ovviamente questa cosa qua come organizzazione di categoria la stiamo presidiando in collaborazione anche con la regione andremo a stringere maglie quello che per una regione nostra che ha un consumo di suolo estremamente elevato dal quale derivano diverse problematiche primo fra tutti il problema idrogeologico seconda cosa la necessità di produrre il cibo come dicevamo ad inizio è che per mettere la diminuzione di suolo coltivabile per produrre energia abbiamo bisogno anche di energia utilizziamo i tetti delle stalle i tetti degli edifici i tetti delle zone industriali artigianali piuttosto che delle cave o di siti nei quali non è possibile coltivare e manteniamo la terra coltivabile anche dando la possibilità alle future generazioni di fare aziende agricole nuove nel nostro territorio questo sarebbe fondamentale quindi adesso la diatriba è in corso anche perché ci sono tanti siti dove possono essere questi pannelli per arrivare sul terricolo capisco la necessità però voi ci avete detto che quando si mette un pannello quel terreno non è più produttivo è perso sostanzialmente quindi questa è l'altra cosa siamo un po' in chiusura allora che cosa si auspica per il settore donna dell'agricoltura che cosa sarebbe importante riuscire ad ottenere nell'immediato sicuramente l'accesso al credito più facilitato quello è il problema principale sì perché poi pensando un po' alle cose è successo anche a me è una cosa simile quindi questa è la difficoltà principale è assurdo che ci sia una differenza per ottenere un mutuo sono andata avanti otto o sei mesi prima di dover quello è il tempo però secondo lei oltre a questo a parte questo è avere anche un po' più cioè adesso con i costi d'olio che abbiamo c'è che sia un po' ridotte queste spese perché se no anche della cisa dell'iva tutte quelle cose imponibili che ci sono dentro che sia un po' salvaguardate perché se no l'agricoltura non si sa come andare avanti assolutamente che cosa spera che possa avvenire per migliorare la situazione ci fidiamo nel nel tempo climatico e speriamo che la situazione cambi e che riusciamo a a produrre più assolutamente ecco è stata bravissima ha detto il cambiamento climatico mi viene un harler che dopo quando si auspica è stato anche due anni fa l'anno scorso non mi ricordo si parla di siccità 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 poi arriva la pioggia alluvione esatto questa è l'altra problematica pazzesca ma sostanzialmente anche a fronte di tutti questi cambiamenti che ci sono cambiamenti climatici difficoltà modificare anche il modo ci sono delle provocazioni quindi nuove tecniche culturali si parla di nuove tecniche culturali è possibile ipotizzarle per cercare di ovviare a tutti questi problemi è possibile c'è una ricerca ci sono studi perché non è che voi imprenditori agricoli possiate mettervi a inventare chissà che cosa assolutamente magari le donne hanno anche più inventiva per carità sono anche più fantasiose però parlare di nuove tecniche culturali con una ricerca anche universitaria più spinta potrebbe essere ipotizzabile assolutamente noi abbiamo delle necessità da un lato che è quella di ridurre gli input si chiamano detto in maniera importante cioè di ridurre tutte quelle sostanze necessarie per ottenere il prodotto finale nel caso agricolo sono i concimi sono l'acqua sono tutte le risorse iniziali che sono necessarie per arrivare alla produzione e questo si arriva solo ed esclusivamente attraverso la ricerca che sia ricerca applicata sulla meccanizzazione che sia ricerca rispetto alle varietà culturali che sia rispetto alle capacità anche imprenditoriali di organizzazione dell'azienda sono tutti elementi che possono aiutare è chiaro però che elementi esterni come il cambiamento climatico come queste cose qua noi cerchiamo di fare la nostra parte abbiamo sempre provato a farla gli effetti li subiamo o per adesso? per adesso ancora li subiamo no perché sembra una cosa incredibile siamo nel 2022 a parte vabbè il paradosso della guerra che nessuno si aspettava però combattiamo ancora contro i cinghiali nel 2022 si combatte contro i cinghiali contro il fatto che magari non ci sia acqua quando poi dei dati arriva e non c'è un messaggio a quelle questioni ci sono tante questioni che sembrano quasi avrebbero essere già risolte invece non lo sono quindi la ricerca secondo me diventa un capitolo importantissimo finita l'emergenza insomma uscita dal momento tragico che ci siamo allora ci sarebbe ancora tanto da dire non voglio darvi neanche là perché il tempo dicono che è terminato io voglio ringraziare Milena Prando presidente Donne in Campo di essere stata qui con noi grazie grazie anche Cristiana Scarabello presidente Cia Zona di Padova grazie a Gloria Giannini invece di anzi Giannini Giannini imprenditrice grazie di essere stata qui con noi Luca Trivellato presidente Cia Padova grazie anche a lei allora speriamo di ritrovarci portando buone notizie dobbiamo essere una trasmissione tutta quanta felice contenta va tutto benissimo invece purtroppo ci troviamo oggettivamente a affrontare anche delle difficoltà buon lavoro buon proseguimento anche a voi voi telespettatori lascio alla pubblicità ringraziando i nostri ospiti invece ci rivediamo dopo tra poco grazie grazie a tutti grazie a tutti